Buongiorno e buon inizio di settimana dal TG Flash. Un uomo di 60 anni, per motivi ancora da chiarire, ha dato in escandescenze ieri sera davanti al casino di Sanremo. L'uomo ha bloccato il traffico lasciando la sua auto in mezzo alla strada e in seguito si è spogliato dando fuoco ai suoi vestiti e minacciando il suicidio. Per fortuna è stato bloccato da alcuni tassisti e dagli addetti alla sicurezza della casa da gioco che hanno poi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo è stato poi trasferito in ospedale. Ed è stato revocato lo sciopero dei lavoratori dell'igiene urbana. La stensione era stata programmata per mercoledì e giovedì, ma è stata trovata un'intesa a livello nazionale. Vediamo. È stato revocato lo sciopero dei lavoratori dell'igiene urbana che era stato programmato per mercoledì e giovedì da CGL, Cisle, Will e Fiadel. La revoca è stata decisa in quanto è stata finalmente trovata l'intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle aziende pubbliche dell'igiene ambientale aderenti a Utilitalia. Resta invece confermata l'astensione del lavoro nelle stesse date per i lavoratori delle aziende private aderenti a FISE a suo ambiente. Il contratto, che decorre dal 1 luglio 2016 e scade il 30 giugno 2019, riguarda circa 50 mila lavoratori addetti al settore e attendeva di essere rinnovato da 30 mesi. Prima di giungere all'accordo i sindacati avevano già organizzato due scioperi molto partecipati il 30 maggio e il 15 giugno scorsi. Per risolvere le questioni sul tavolo era intervenuta anche l'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni. Un buco di oltre 2 milioni di euro nelle casse del Comune ha portato alle dimissioni del sindaco di Borghetto Santo Spirito Giovanni Gandolfo, che era stato eletto nel 2012 in una lista civica appoggiata dal centro-sinistra. A quanto sembra il buco finanziario è stato causato da errori compiuti nel calcolo dell'Imo e la maggioranza si è spaccata sulle scelte da adottare per il piano di rientro. Ora a Borghetto giungerà un commissario nominato dalla Prefettura di Savona. E si è svolta ad Ormea una riunione per programmare il tradizionale appuntamento di agosto alla chiesetta di Santerim. Presenti gli organizzatori ed il sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris. Vediamo. Nel comune di Ormea la presenza del sindaco Giorgio Ferraris si è tenuta nel pomeriggio di sabato scorso una riunione operativa per l'organizzazione del tradizionale appuntamento di agosto alla chiesetta di Santerim nella Valle dei Maestri alle pendici del Marguareis. Nel corso della riunione si è parlato anche della predisposizione di un volume sulla storia della chiesetta che si spera di poter presentare ufficialmente il 27 agosto in occasione dell'incontro proprio alla chiesetta. Per quanto riguarda la manifestazione di agosto il comitato organizzatore ha incaricato il sindaco Ferraris di interessarsi presso i comuni di Briga Alta, Limone e Piemonte al fine di ottenere il transito libero lungo la strada che conduce alla chiesetta. E sono scattati oggi nuovi orari per il Centro Informazioni Turistiche di Imperia in Piazza Dante. L'ufficio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30. I nuovi orari resteranno in vigore fino al 17 settembre. E' successo di pubblico sabato sera in Calata Cuneo ad Imperia per il concerto del Coro Mongioie. L'evento rientrava nel quadro degli appuntamenti estivi del Comune. Vediamo. Successo di pubblico sabato sera in Calata Cuneo ad Imperia per il concerto del Coro Mongioie. L'evento rientrava nel quadro degli appuntamenti estivi nell'ambito della rassegna Summer 2016 del Comune di Imperia. Il Mongioie, diretto da Ezio Vergoli, vanta partecipazioni di successo a festival internazionali come quelli che lo hanno visto recentemente a Friedrichhafen, città tedesca gemellata con Imperia e a Biarritz nella regione atlantica dei Pirenei in Francia, paese dove inoltre è spesso ospite di rassegne e concerti. Ha tra le sue recenti iniziative anche la partecipazione al Festival di Sanremo nell'ambito del Dopo Festival. e siamo allo sport. Il sport prosegue la battaglia per la conquista del campionato italiano rally da parte di Skoda Italia con l'equipaggio composto dal driver Veneto Umberto Scandola e dal navigatore imperiese Guido D'Amore. Dopo le prove del rally di San Marino, concluse si ieri, la coppia è a pochi secondi dalla vetta della classifica. In servizio. preceduti al secondo posto da Simone Campedelli e al primo da Gian Domenico Basso. Ha invece cappottato e si è quindi dovuto ritirare l'attuale leader del campionato, Paolo Andreucci. Dopo la pausa estiva il campionato italiano ripartirà con l'asfalto del rally del Friuli Venezia Giulia in programma dal 26 al 28 di agosto. E con il rally è tutto per il TG Flash di oggi, vi ricordo i nostri servizi, telegiornali e trasmissioni che possono essere rivisti sul sito www.imperiatv.it e poi sui nostri profili Facebook e Twitter. Il palinsesto di questa sera prevede alle ore 21 la nuova puntata della trasmissione Pillole di Salute e poi il telegiornale ai consueti orari 19, 20 e 30 e 23. Grazie per l'ascolto. Appuntamento a questa sera, arrivederci.